E' bello a tutto ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Oggi ragazzi Cerchiamo di riuscirci Eh vabbè ragazzi scusate per le parole Mi sciglia A sbloccare questa sciglia Non mi veniva, vabbè Così tra poco ho sblocato C'è tutte le sfide in cubo Che bello Cacera Ragazzi comunque se vi iscrivete Al canale di Amazon Gamer Vedete un video Che stavamo giocando con un suoi iscritto In una live E alla fine ci commenterà Che poi Senza Rada abbiamo fatto un altro torerale Vabbè Poi ragazzi iscrivetevi anche al canale Di The Avengers Squad Che sono Che non sono male Questi manali C'è ovviamente Non hanno tanti iscritti Ma Ma ci stanno lavorando Ragazzi comunque Crimson Gamer porterà Fortnite Fortissimo Ma un po' è troppo bello Sto Solo che fa troppo rumore Non è da becca Perché fa troppo rumore Come va A shot È sbloccata anche la scia Che stanno lavorando Che stanno lavorando vabbè sono morto ragazzi vabbè sono morto ragazzi ma non posso mangiare dentro vabbè ma non kill però ho splaccato ancora altre cose ora devo vedere solo gli ultimi gol ragazzi così tra poco oggi ho fatto tutte le sfide simpatico trovo che si blocco anche questo tutti i sfide voglio un po' più malvagio così ci sa quando ci vuole per sbloccare a livelli a livello successivo fuoco che bello chissà c'è un fuoco dai allora un gol gol e poi diceci una regolazione fondata che è un gol gol che è un gol gol che è un gol gol vanno davanti diversi luoghi di cocco che è un gol gol che è un gol gol davvero che è un gol che è un gol Sì, ho fatto un'altra sfida Che bello Ragazzi poi ci sarà Un weekend che non vado a scuola Che sto tutto il tempo a casa E farò tanti video ragazzi Non mi preoccupare Non manterrò Non man... Cioè Faccio tanti video Carico Scusate che non sono usciti ieri Dei video però O quell'altro ieri Perché non lo so dove carico questo video Quando lo carico questo video L'altro ieri O ieri Comunque non lo so perché Cioè perché non c'era a casa Allora non ho caricato video Mi dispiace che non ho caricato video però Io A me lo farò quando è massimo No 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info ma c'è a dire c'è fortissimo vabbè no, non lo so però me la capo io te lo so nel marchio ragazzi per me chi è che sta davanti sperando che non sia vita ah, devi abbastare speramente mi devi fare un brico giù 8 8 che bello fare 8 che bello bello fare 8 guarda per quanto me lo sblocco questo vabbè forse domani mi riesco a sbloccare vabbè ardente fantasma fantasma che cosa c'è che è praticamente che è praticamente la cosa importante da tenere ben presente la cosa importante da tenere ben presente una rata da rata non sto fatta di ritorno vabbè non è nemmeno non è nemmeno Vabbè, andiamo verso il tempio. No, no, il tempio, il burgo, il burgo. Eh, vabbè, là c'è nessun jam. va da non si vanno da una cosa ah ah non non oh come è finta oh come è finta non mi vedevi ma io che me ne vado da qui ok almeno rompo questo ecco questo è una decorazione tanto che quello è meglio che esco da qui ma dopo proprio i venti che non fa male eeeh poi secondo me è così non c'è male non c'è male tutto male unico oh questo è un brano cazzo qui e che male la cazzo qui la cazzo qui e che male e che male ovviamente a quell'altro lato oh no si santi in testo dei muri romani s ma il dell'altro si sia no ahah vado no 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 non mi si può bella ragazzi finisce questo video un salutone bella raga tristezza